Ciao a tutti, sono Noratus, sono un bellissimo avviso per ricordarvi che stasera, tra un quarto d'ora, non stasera, ma tra un quarto d'ora, ora, sta per cominciare, il Glitcher Super Show, mi raccomando, non perdetevelo, potete vederlo in diretta su kadgar.net slash glitcher slash noratusgames slash non so che altro streamy, immagino, no, non ne sono sicuro, va dei problemi, comunque, mettete qui un questremi dietro gli slash e vi compierà tutto su una schermata unica condivisa. In link, in descrizione, troverete il link con la visuale mia di Mac, comunque, aggiungete semplicemente chiunque altro che stia streamando, così potete vedere le nostre visuali in contemporanea. Inizieremo con The Binding of Isaac Rebirth, come sempre, Afterbirth, sì, sono rimasto un po' indietro io, Afterbirth, come sempre, e poi vedremo, ci saranno delle sorprese, due giochi estratti, come ogni lunedì, vi aspettiamo tra dieci minuti, live. Ciao a tutti ragazzi.